Non è ancora te, senza ma, fuori l'acqua dalle fa! Senza te, senza ma, fuori l'acqua dalle fa! Siamo tornati dopo un bette, davanti al comune, un bette fa gli amministratori del nostro comune ci sono impegnati a dare una risposta ai cittadini di buon pianeta che hanno racconto 15% firme per cadere l'installazione di un fontanello nel nostro quartiere. Non funzionemente nostra realtà non è cosa importa! Noi esforzo! Noi esforza che sono impegnati, si fai che non�ano la notazione di un frontario e di un frontario? Noi esforzano le vogliamo, noi Foxe è! Vogliamo che si sta iniziando ai cittadini! Oso, il mio dito di sovra e il mio, a cui Radio Puglio ha faccio vedere che s'adida da fare un'acqua dalle fa e che s'adita, che s'adita, che s'adita, che s'adita da fare un uve! Noi esforzo, che s'adita nelle altre amministrazioni, i polizzi a sviluppare i campionati, i campionati, i nostri guardiari del nostro popore. Partecipate alla campagna, poste in mare il sindaco, prendete i campionati che stavano in grado, e si si guardano, e i campionati, la solitavente, assinio con i campionati, si può esprimere la vostra voce, si può esprimere i dati, agli erboli, vogliamo sviluppare i campionati, i campionati, i campionati, i campionati, i campionati, i campionati, e la festa è la foto del giorno.